Nel comune di Quarto è nato dal primo pomeriggio lo sgombero coatto dell'alloggio dell'ex custode della scuola media statale Piero Gobetti. Lo stabile era occupato abusivamente dall'uomo. Sono stati richiamati sul posto il dirigente del commissariato della polizia di stato di Pozzuoli, Ludovica Carpino, il comandante della compagnia dei carabinieri di Pozzuoli, il capitano Marco Liguori, il comandante della polizia locale di Quarto, il maggiore Ludovico Di Maio e i responsabili del settore patrimonio e del settore lavori pubblici. Un intervento reso necessario per ripristinare la legalità all'interno dell'istituto scolastico, dove da tempo ormai l'uomo occupava lo stabile in maniera illegale ed in maniera abusiva. Di conseguenza è stato reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine affinché si potesse sloggiare, in questo caso l'abitazione, e quindi sgomberare l'intero stabile.